50 sinistri per tornante destro 50 sinistri per cento sinistri in sinistra 6 per destra 4 concentrato 50 sinistri destra 4 in occhio che taglia e ritarda per sinistra 3 che chiude 20 tornante sinistro stretto tieni destra 6 20 tornante destro 30 stai largo e occhio all'interno tornante sinistro destra 2 vai per 50 sinistri e occhio che stringe le case in sinistra 2 lunga gira tieni per 50 destri e stai largo per tornante destro stretto e tiralo Davide in sinistra 2 che gira 20 sinistra 3 vai 50 sinistra 4 per occhio destra 3 che stringe fidati 50 destra 3 vai per sinistra 5 in destra 6 100 sul dosso in destra 5 vai 50 destra 4 e occhio che stringe in destra sinistra per destra sinistra 6 tieni e cartello sinistra destra 20 in sinistra destra 5 per sinistra 5 occhio rallenta sinistra 2 e gira e ritarda in destra 2 gira molto lunga per sinistra 3 vai Davide 30 è il palo ritarda sinistra 3 30 tieni in destra 3 vai e continua in 4 50 destra 5 per cento 50 destra in inversione sinistra 4 in inversione sinistra 4 8 50 destra in inversione sinistra dopo l'UMP in destra 1 vai 30 tieni in destra 4 i bidoni occhio ritarda in destra 2 vai corda poco 100 tranquillo ritarda in sinistra 2 gira vai e stai a destra sul dosso per 100, in occhio destra 3 vai, 100 e a rail sinistra 3 vai, anche qua occhio 50, sinistra 4 che chiude e ritarda ai bidoni in destra 3 vai, 50, sinistra 4 e allarga il secondo palo e ritarda, in sinistra 3 gira, per destra 3 vai, 30 e alla casa destra 2 che chiude e allarga in destra 3, in sinistra 3, per destra 4, 30, destra 3 che gira, Davide gira, per sinistra 2 gira 20 e ritarda in destra 3 che stringe, 20 e occhio, sinistra destra 4 stretta, occhio, per sinistra destra 6 vai, 100 destri, bene la staccata, intornante sinistro, bene la staccata 100 destri, intornante destro, intornante destro, bene la staccata anche qua Davide Grazie a tutti